Da Caporetto ad Arezzo, la storia dei Sappadini alla Casa dell'Energia è andato in scena un nuovo appuntamento nell'ambito della mostra Tutti Eroi o il Piave o Tutti Accoppati, organizzata da Il Baluardo e Save the Memory Ollus in collaborazione con il Comune di Arezzo, iniziativa nata per celebrare il centenario della vittoria dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. Il professor Giancarlo Sordi e lo storico curatore della mostra Livio Pierallini hanno tenuto questa conferenza dedicata agli abitanti di Sappada, profughi ad Arezzo dal 1917 al 1919. Apprentarono quasi alla fine 850, poi quando ripartirono erano 841, perché una parte mi arrivò nella prima mandata a 630, una parte, quelli 160 che partirono successivamente, andarono a finire a Fanno e videro per la prima volta i mari, perché non si erano mai mossi da questa valle e da Fanno poi furono portati ad Arezzo. Quindi tante famiglie qui furono riunite grazie a Don Emilio Troiero. Qui ad Arezzo appena scesi li concentrarono al Politeama, perché esisteva già il Politeama Universale come teatro. Li concentrarono lì e poi la prefettura e il sindaco di Arezzo li smistarono in tante ville dell'Arettino, c'è un elenco lunghissimo, ma a Gazzi, a Santa Firmina, a Gaville, al Bagnoro. Quella che è rimasta più impressa a tutti è questa villa su Bianni, che è sopra il palco dell'Orti Redi. Ad Arezzo però non furono collocati solo qui in città o nel comune d'Arezzo, ma andarono in circa 10-11 comuni. Dopo Arezzo, il comune maggiore, a Portona, andarono a Sansepolcro, in Casentino, a Bucine, Buccine, come dicono loro, e quindi furono spazi in molte zone della provincia. Istituirono il comune di Sampada in esilio, ricostruirono le loro scuole, perché c'era l'obbligo per i bambini di andare a scuola. Le donne Sampadine, gli uomini, sapevano quasi tutti leggere e scrivere.